I manager stessi in questo momento stanno innovandosi tanto. Uno dei cambiamenti che vediamo di più è il fatto che sempre più manager vogliono acquisire competenze di coaching. Ad esempio si vede che ai corsi che facciamo sempre di più arrivano dei manager che vogliono acquisire competenze di coaching più che diventare coach professionisti. Quindi più che professionalizzarsi per diventare coach vogliono acquisire strumenti per permettere ai propri team di raggiungere risultati e alle persone di crescere, di diventare sempre più autonomi e responsabilizzarsi nei confronti del raggiungimento di obiettivi. Quindi secondo te, visto che nella tua esperienza precedente hai fatto manager, come è cambiata questa figura e perché è così importante che si doti di competenze di coaching? Ciò che cambia di più è l'orientamento. Allora, l'orientamento al passato, ad esempio, fino a qualche tempo fa le aziende, ad esempio, facevano i classici cicli di performance review in cui si andavano a valutare risultati dei collaboratori. Quindi i manager di fatto andavano a valutare quelli che erano i risultati in termini di performance e anche di apprendimento. Attualmente moltissime aziende, la maggior parte delle aziende più importanti al mondo, si sta orientando al futuro e quindi al performance achievement, che vuol dire non sto più a valutare il passato, ma mi oriento a stabilire obiettivi e poi fare più che una revisione annuale di questi obiettivi, un continuous feedback nell'ottica proprio di aiutare i collaboratori a raggiungere questi obiettivi e adottarsi di quegli apprendimenti, abilitare quelle competenze che permettono il raggiungimento di quei risultati. Questo è automaticamente legato al coaching, nel senso che anche il coaching è qualcosa che non è mai orientato al passato, non andiamo mai a vedere perché non sei riuscito a fare qualcosa, ma vediamo sempre cosa serve per ottenere quel risultato, quali sono gli ostacoli e quali sono le leve che ti permettono di superare quell'ostacolo per raggiungere il risultato. Aiutiamo le persone a fare questo processo di problem solving e di raggiungimento degli obiettivi e i manager proprio si stanno dotando di questo tipo di strumenti.